Allora Jennifer, che cosa ne pensa di questo corso che avete fatto, di questa scuola Summer School su Petrarca? Allora per me è stata la prima volta e devo dire che è stato molto interessante perché abbiamo imparato tante cose su Petrarca e soprattutto i professori ci hanno aiutati soprattutto ai nostri progetti di ricerca. Allora Jacopo, da dove vieni? Io vengo da Rimini ma studia a Bologna e vivo a Bologna ormai da anni. La tua esperienza per questo corso? Beh, molto positiva, una concentrazione tale di professori di livello altissimo è davvero difficile da trovare e quindi è stata un'esperienza molto formativa. Quindi Petrarca è eterna? Petrarca è eterna, assolutamente sì. Allora Sara, cosa ne pensi di questa Summer School, la tua esperienza qua? È stata la prima volta anche per me nella partecipazione di un evento del genere devo dire che è estremamente formativo, infatti comunque consigliere anche a tutti i miei coetanei e non anche per vari gradi del percorso di partecipare a un'iniziativa del genere perché è veramente complesa. Paolo, allora, che impressione ti ha fatto comunque essere immerso nel mondo del poeta, scrittore? Beh, molto, come dire, suggestivo perché appunto Arezzo riesce a mantenuto questa, insomma, la veste medievale e quindi camminare per i suoi vicoli, insomma, è stato bellissimo proprio per un sentire quasi comune. Alessia da dove vieni? Io sono di Livorno, però studio a Trento. Doveva esserci una buona motivazione per venire qui alla Summer School? Certo, sì, è stata un'opportunità di confronto anche tra coetanei che è sempre qualcosa che arricchisce comunque l'esperienza.